Allora ragazzi, finora siamo stati in presidenza, abbiamo parlato pure con la Dicos, tutti dicevano che eravamo dei pazzi a farla dopo la festa d'istituto, tutti dicevano che non ce l'avremmo mai fatta, tutti dicevano che in sequenza non ero unito, ma vi posso dichiarare che in quindi si erano le dire che non più già mette a courto! Grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti.